il terzo quarto di finale tra il sap equip sai e fc giorgione genna reddamenti tatu latina sulla carta la formazione di il sap equip sai parte con i favori del pronostico ma la partita è tutta quanta da giocare e parte infatti meglio la formazione in maglia orange con questa conclusione che è stata ribattuta e poi un nuovo tiro da parte di pernasilici che trova attento cacciotti parte sicuramente con il piede giusto la formazione arancione un'altra conclusione questa volta di pannozzo e sempre cacciotti sulla sua strada sembra avere un una grande verve una grande vitalità la squadra arancione di fc giorgione poi c'è la reazione però da parte della squadra in maglia bianca con proia che ha tentato di farsi luce con questa accelerazione è stata neutralizzata dal portiere dorati poi ancora un lancio perfetto per pernasilici guardate che coordinazione una cosa che si vede probabilmente soltanto in spiaggia ha mancato la porta di pochissimo poi però viene castigata la difesa in maglia arancione di fc giorgione generalmente tatu latina da questa conclusione da parte di meneghello di rara potenza e precisione che si va praticamente ad adagiare sotto l'incrocio dei pali e vantaggio da parte della formazione in maglia bianca è scatenato però il numero 7 in maglia bianca appunto di itzappe kipsai che poi va anche a segnare la doppietta e dunque nel giro di 5 minuti la storia della partita è praticamente completamente cambiata con la squadra di itzappe kipsai che adesso è padrona della gara reazione da parte però di fg giorgione con questa conclusione di bovolenta che è stata però parata dal portiere avversario e poi il gol di pagano da posizione è molto defilata ha esploso il suo sinistro sul secondo palo rete del 2 a 1 è partita dunque riaperta ma è soltanto un fuoco di paglia perché la squadra di itzappe kipsai inizia a questo punto una progressione di reti che praticamente si esaurirà con il fischio finale il gol del 3 a 1 molto bello da parte di matozzo che dunque segna il vantaggio il doppio vantaggio appunto della squadra in maglia bianca 3 a 1 e poi una splendida combinazione una triangolazione fra matozzo meneghello e poi ancora matozzo che a tu per tu con il portiere avversario lo castiga per la quarta volta a questo punto la qualificazione non è più un problema per la squadra di itzappe kipsai che gioca sul velluto ha ormai mollato la squadra di fc giorgione che era comunque stata in partita per buona parte del primo tempo e anche all'inizio della ripresa 5 a 1 anche segnato da meneghello facile facile e a questo punto manca pochissimo al termine c'è giusto il tempo per assistere a questa splendida conclusione su punizione che è stata segnata da proia una sassata una fiondata sul secondo palo e dunque 6 a 1 e qualificazione dunque ottenuta per la squadra di itzappe kipsai che batte fc giorgione proprio con il risultato di 6 a 1 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti